Come ho detto, appena sarebbe stato pronto, l'avrei assaggiato davanti a voi. Abbiamo qua il baso con bihun e mi. Cioè il mi sarebbero... aspetta che prendo l'attrezzo essenziale per mangiare il baso. E praticamente allora, il baso è questo, ok? Polvettino. I mi sono questi spaghetti più gialli e il bihun sono questi che sono fatti di... in Italia, ma? Nasi, le ritrassi. Mais. Vabbè, non so, mi dice che è fatto con mais. Un tipo di spinaci indonesiani. Loro ci mettono la salsa piccante qua, che io già ci ho messo. Ti sfonda, ti apre in due, ok? E oltre a questi, le mangiano con il... ecco, questa è la salsa piccante. Cioè, mettono proprio il... Non lo so, la soda caustica ci mettono dentro, perché muori quando lo mangi. E insieme a questo, normalmente, si mangiano questi. In i brabari. Sei bubbi. Sei bubbi. Padre bubbi? Sei bubbi. Sei bubbi. Ok, uno costa mille rubie, che non so, quant'è mille rubie, amore? Dieci centimo. Dieci centesimo o un centesimo? No, dieci centesimo. Dieci centesimo, vabbè, meno di dieci centesimi. Tipo, sette centesimi l'uno. Adesso provo a aprirlo, ma qua c'hanno la mania di chiudere le cose emeticamente. Questo è il mio figlio. Vuole nel braccio? Vuoi mangiare il gruppo? Questi si chiamano gruppo. E voi le conoscerete dai cinesi come numulette di drago, no, ma del genere, ok? Tieni, amore. E niente, va così. Questo è il mio. Tanti piccanti, come tre cucchiaino. Tre cucchiaino questo? Questo è il mio. E' lui? Abbiamo già chiamato l'ambulanza, quindi appena finito, tranquilli, ci mettiamo sull'ambulanza. No, no, no. Ok. Buon appetito. Ciao, ciao. Ciao, ciao.